Da una parte c'è chi esulta, i cittadini stufi di cattivi odori e rumori, dall'altra però c'è chi protesta, i sindacati che rappresentano i 30 lavoratori sul cui futuro pesa un grosso punto interrogativo. Ieri il sindaco di Ravenna De Pascale ha incontrato i residenti della zona d'Arsena e i sindacati nei pressi del bitumificio SIC, lo stabilimento del gruppo CMC, di cui è stata disposta la chiusura entro giugno per motivi ambientali. Ora si pone il problema di trovare una nuova collocazione per la fabbrica, il primo cittadino propone che venga spostata nella zona industriale. Per quel che riguarda l'impianto, adesso il nostro impegno è quello di lavorare con l'azienda, con SIC, con CMC, perché si dia continuità ai lavoratori, quindi perché si ottenga la delocalizzazione dell'impianto in un'altra area, che si diano prospettive di lavoro ai lavoratori di queste imprese e che poi anche un servizio come quello dei prodotti che qui vengono realizzati poi rimanga per il nostro territorio. Capiamo la preoccupazione dei lavoratori, chiediamo fiducia, abbiamo noi fiducia anche nella CMC, che è un'impresa che ha una storia gloriosa e che siamo convinti che insieme a noi troverà una soluzione. Da circa 12 anni che sono qui, in questo quartiere e sinceramente ogni mattina ci accorgiamo che praticamente c'è una costante puzza che viene da questo bitumificio e continuamente anche delle polveri dal cementificio che continuano ad essere sempre presenti, soprattutto nelle prime ore del mattino. C'è anche il problema dei rumori che incominciano alle 6, 6 e mezza e cominciano a lavorare e a smuovere camion con betoniere che producono un rumore.